Anche noi siamo la storia, storia di donna e l'esistenza nello spettacolo che si svolgerà lunedì 25 aprile alle ore 21 al Teatro San Rocco. Un'opera che ha visto impegnata l'associazione culturale Sucker Quartet e che non per caso verrà presentata al pubblico proprio durante la festa della liberazione. Ecco, le va di raccontarci meglio di cosa si tratta e quali sono le particolarità di questa rappresentazione. È una rappresentazione che valorizza la donna combattente, la donna madre, la donna staffetta, la donna infermiera nella storia partigiana perché tendenzialmente si tende sempre a valorizzare tutto quello che hanno fatto i partigiani. In questo caso si vuole valorizzare il ruolo proprio centrale della donna in questa storia della resistenza, soprattutto incentrata qui in Oltrepò, Pavese. Tant'è vero che poi durante lo spettacolo vengono anche nominati luoghi, persone e donne cadute proprio in questa resistenza. Ecco, so che è un'opera ispirata ad un'altra opera letteraria, corretto? Sì, un libro di Ugo Scagni, di Broni, che parlava proprio delle donne di quella zona che avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale, che avevano aiutato i partigiani che avevano vissuto per far sì che queste persone collaborassero tutte insieme, come cittadinanza anche. Qual è stato il processo di evoluzione dall'opera letteraria a quella teatrale? È stata una libera interpretazione proprio della primatrice, nonché regista, Evelina Primo, che questo libro è fatto di storie, storie diverse di partigiane, ed Evelina Primo ha estratto da queste storie l'embrione per creare una storia con un filo logico. Lo spettacolo ripercorre un po' tutto quello che è successo, cioè dall'origine, parliamo degli anni 20, al percorso fino ad arrivare alla Resistenza, ma fino ad arrivare anche ai giorni nostri, attualizzando la figura della donna partigiana, che ancora oggi nel mondo esistono donne partigiane che stanno combattendo per la libertà, per il voto, per l'uguaglianza, cose che facevano le donne ai tempi della Resistenza. Lo spettacolo è estremamente innovativo e complesso perché include parte recitate, parte cantate con brani storici ma anche molto moderni e attuali, immagini, voci fuori campo, suoni e tre musicisti che suonano dal vivo, che compaiono tutto lo spettacolo, con l'ausilio di immagini e filmati storici, per cui è un mosaico artistico, se possiamo dire. Volevo ricordare anche che l'idea è partita anche dallo scrittore Angelo Vicini, il nostro scrittore vogherese, che ha aiutato a sviluppare questo concetto insieme alla regista Evelyn I e a mettere il testo completo, a completare. Dalle figure femminili della lotta partigiana a quelle attuali, quanto è cambiato secondo lei il ruolo della donna nella società? C'è stata una vera e propria e profonda evoluzione oppure c'è ancora tanto da lottare, da cambiare? Ma purtroppo credo che ci sia ancora tanto da lottare e questo lo testimonia il fatto che ci siano ancora molte donne in prima linea da questo punto di vista. Sono cambiate ovviamente le tematiche, però chiaramente c'è ancora bisogno di persone che fra virgolette alzino la voce e che facciano capire che ci sono ancora tante cose che non vanno. Quindi, che ne so, dalle grandi multinazionali che cercano in qualche modo di ostacolare la crescita di un paese alla libertà, la libertà sotto parecchi punti di vista, come diceva prima che Giuliano, al diritto di voto, al diritto di espressione, a qualsiasi cosa. E in questo forse le donne, che da un certo punto di vista manifestano una sensibilità più sottile, si trovano magari ancora più coinvolte, maggiormente coinvolte in queste tematiche e cercano di far sentire anche la loro voce. È uno spettacolo importante proprio per questo. Evelina Primo in passato ha già portato sul palco tematiche come quella della guerra. Ecco, una tematica molto importante, spesso addirittura più grande di noi, no? Quale tipo di responsabilità si ha quando si porta sul palcoscenico un tema così forte e così profondo? Ma la responsabilità è quella che abbiamo noi, che ormai abbiamo un'età e siamo genitori, che è quella di, innanzitutto, di non disperdere il ricordo, la memoria di quello che è stato. Perché adesso non è per banalizzare, ma il fatto solo che noi possiamo andare su un palco a dare un punto di vista di un certo periodo storico è una libertà che qualcuno ha conquistato per noi. Quindi è anche una responsabilità che noi abbiamo nei confronti del pubblico, nei confronti di noi stessi, che abbiamo un privilegio di poter fare questo, e anche da genitori che abbiamo anche una responsabilità nei confronti dei nostri figli. Infatti la cosa che ci piace veramente tanto è proprio il fatto di condividere questa responsabilità con le scolaresche. Infatti lo farete, ci sarà una replica, è corretto? Esattamente, con le scolaresche che verranno a vedere questo spettacolo nella mattina del 26, e anche qui una responsabilità che noi viviamo già da diversi anni, perché nella nostra ormai lunga e fortunata attività la parte proprio a contatto con i giovani ultimamente ha assunto veramente un ruolo molto importante, perché noi, al di là di questo spettacolo, sono anni che collaboriamo con l'Associazione Culturale Demetrio in Pavia per portare appunto la forma d'arte che ci compete, che è quella della musica e del canto, nelle scuole. E quindi è una responsabilità sì, ma è anche una grande gratificazione, perché chi ha a che fare con i giovani, con i ragazzi, lo sa benissimo, è molto di più quello che si riceve quando si fanno queste cose di quello che si può dare. Quindi diciamo che è una responsabilità, ma è anche e soprattutto un onore, un privilegio poterlo fare. Ecco, lo spettacolo verrà riproposto sempre al Teatro San Rocco, anche martedì 26 aprile alle ore 9 e alle ore 11 e 15. Saranno repliche riservate alle scuole. Ecco, un po' l'ha anticipato già lui, ma perché pensa che sia importante raggiungere con questo spettacolo proprio i ragazzi delle medie e delle superiori? Ma diciamo che per quanto ci riguarda come quartetto, fortunatamente abbiamo un pubblico che è estremamente eterogeneo e quindi abbiamo sia le persone di mezza età, sia le persone più anziane, ma fortunatamente abbiamo anche tanti giovani che ci seguono. Quindi diciamo che il passo è stato abbastanza obbligato, è automatico. E come giustamente diceva Alfredo, in primis perché essendo genitori, diciamo che il nostro sguardo è rivolto verso i nostri figli e di conseguenza anche verso le scolaresche, verso le varie scuole, i vari istituti. E conseguentemente ci sembrava giusto proporre alle scuole soprattutto questo tipo di spettacolo che è abbastanza impegnato dal punto di vista tematico, però riteniamo che comunque abbia una buona scorrevolezza. Infatti già l'anno scorso era stato proposto sia per le scuole a Voghera e a Pavia e ha riscosso veramente tanto successo. Quindi abbiamo visto i ragazzi molto attenti, molto coinvolti e veramente hanno tanto apprezzato. Quindi ci sembrava giusto poter ridare questa opportunità. Tra l'altro avvicinare anche i ragazzi al teatro in una città come Voghera dove non c'è una vera e propria stagione teatrale, no? È vero, è vero. Diciamo che questo, beh, cominciamo a lanciare un sasso nello stagno, no? E speriamo che le onde possano così arrivare fino ad altre rive. Le persone convenzionate con tutti gli Ampie Regionali, Hauser, Kral, Centro Anziani e Movimento Cristiani Lavoratori avranno diritto ad uno sconto sul biglietto d'ingresso.